John Borne ragazzi, John Borne benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel post partita e analisi di Udinese Inter Allora, 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 prima di iniziare mi raccomando, mi raccomando prima di iniziare vi lascio qui sotto in descrizione il link per andare direttamente sulla pagina Instagram di Sportium Lab Vi darò la possibilità di vincere i biglietti per andare gratis allo stadio, Milan, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Italia, Europa, anche partite della Liga Spagnola Mi raccomando, fateci un salto, date un'occhiata, provate a vincere, attivate la campanella perché chi prima vince i contest, prima vince i biglietti Detto questo, voglio sapere da voi qui sotto con un commento, secondo voi l'Inter con quanti punti chiuderà il campionato? Vediamo se effettivamente ci prenderete oppure no Allora, partiamo con il parlare della partita Ah, tra l'altro vi dico subito, volete le pagelle domani? Se volete le pagelle domani, dei after pagelle Mi raccomando, arriviamo a 4.000 mi piace sotto questo video e vi porto dei after con delle pagelle Se non ne arrivano, non ve ne frega niente, quindi ovviamente non lo facciamo Detto questo, Udinese e Inter Allora, partiamo da un presupposto importante Grosso modo l'Inter ha un pochinino, non dico tanto, un pochinino staccato alla spina Cioè l'Inter ormai è proiettata verso la vettoria dello Scudetto che inevitabile arriverà Che inevitabile giungerà E quindi, sì, sta giocando con quella forza che è piuttosto una forza di nervi Quando tu, quando metti stop sul Tapirulan in palestra Tapirulan deve fare un piccolo defaticamento e poi dopo piano, 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 piano Va a calare finché non si ferma Ecco, l'Inter ha smesso, un po' come in auto, no? Di premere sull'acceleratore Adesso in folle sta andando avanti E un Inter che va avanti in folle è comunque molto forte Spesso i punti li fa lo stesso Però è un Inter che sta semplicemente attendendo il momento della vittoria del tricolore Che arriverà E il gol dell'1-0 dell'Udinese Per l'Inter È proprio brutto Lasciatemi dire che è veramente brutto Perché, a parte che è brutto il gol in generale È proprio brutto il gol Un tiro cross Più cross che tiro Di Samaric Con sto pallone che non si capisce Do sta nà Se sta andando in porta Se sta andando fuori Se è un passaggio Se è un tiro Se è un cross Se è una svirgolata Non si capisce Ma piano piano L'MLM Lento lento Senz'H Alla destra del portiere Ecco Questa roba qua È clamorosa Io sono rimasto tipo Ma che cosa sta Uno è veramente uno dei gol più brutti Che io abbia mai visto E proprio Per la bruttezza del gol Permettetemi di dire Che è un pochino Dall'Inter Non me lo aspetto Ma non tanto per il gol brutto Perché quello è un gol fortuito Che puoi prendere tranquillamente Quanto per Fatemela definire La posizione La posizione Dell'Inter In fase difensiva Stanno tutti fermi Tutti fermi Addirittura I giocatori dell'Udinese Perdono palla Rischiano di perdere palla La riconquistano Su qualche Su qualche Cioè Non contrasto Tipo c'è un giocatore dell'Udinese Che forse può posare Martici Pena del gol Che la mette giù La mette giù Tutta storta Perché sbaglia La posizione del corpo E nessuno che attacca Nessuno che va in pressione Sul gol del vantaggio dell'Udinese L'Inter è veramente brutta Però è una piccolezza Una piccolezza Di una squadra Che meritatamente Vincerà il tricolore È un Udinese Che la prepara Come deve prepararla Cioè È un Udinese Che la prepara Aspettando Aspettando l'Inter E ripartendo Tanto che le migliori occasioni Del primo tempo Ma della partita in generale Le costruisce tutte L'Inter E l'Udinese Si limita A cercare Quel piccolissimo varco Che tra l'altro Nell'unico tiro in porta Del primo tempo Gli permette Di trovare L'unico gol Del primo tempo L'Inter gioca Sì L'Inter produce Sì L'Inter crea Effettivamente sì Ma sul gol La difesa È messa Veramente Veramente male Devo aggiungere Anche un'altra cosa Il secondo tempo Dell'Inter Mi piace molto di più Rispetto al primo Dei Nerazzurri Perché nel primo tempo Mi è sembrato Un'Inter Svogliata Parecchio svogliata Anche in fase Di costruzione Infatti Nella prima costruzione Nel primo possesso L'Inter Sbaglia tanto E anche In occasione Del gol Dell'1-0 C'è un errore Grossolano Dal mio punto di vista Che porta poi Alla rete Del vantaggio Dell'Udinese Dove l'Inter Nel primo possesso Sbaglia completamente A costruire il gioco Detto questo L'Inter Comunque le occasioni Le crea C'è la Noglu C'è un paio di chance Che non riesce A buttare in porta Ma soprattutto È un Inter Lo dimostra Inzaghi Che nonostante Sia molto vicina Dal Ufficializzare Il tricolore Perché Dai ragazzi Siamo comunque A un margine Abbastanza importante Da poter stare tranquilli Diciamo Nel definire L'Inter Una squadra Quasi Giunta Alla seconda stella E Nonostante ciò Inzaghi Non sta dando spazio Ai Bukhienan Non sta dando Così tanto spazio Agli Aslani Non sta dando Così tanto spazio Ai Bissek Ne parlavo In un video precedente Tra le altre cose Ma sta continuando Appunto Sono titolari 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 Alla fine dei conti Oggi Chi è che non era titolare Cioè chi era dei titolari Che non è titolare O comunque che non fa parte Delle prime linee Forse è giusto Giusto Se dobbiamo andare a string Tra gli undici top Carlos Augusto Braccetto È un po' Una seconda scelta Lì ci dovrebbe giocare Bastoni E Forse a destra A destra in realtà Gioca Dunfrize Il titolare dovrebbe essere Dunfrize Però Io credo che Inzaghi Si fidi Molto Molto Più Di Darmian Rispetto che Di Dunfrize Tanto che E questa cosa è molto curiosa Fin primo tempo Il Bordocampista Sottolineava Come Molto spesso Inzaghi Inzaghi Si girasse Verso Darmian Guardandolo Poi parlava con Dunfrize Chiedeva cosa Dunfrize Poi si rigirava Verso Darmian Proprio per dire Cazzo L'idea che mi ha detto Tipo cazzo A saperlo Facevo giocare Darmian Titolare Darmian Quest'anno Ha trascinato Letteralmente L'Inter Ovunque sia stato Messo Secondo me L'Inter E ve lo dicevo In partenza In apertura Ha smesso Di essere focus Per il tricolore Perché ormai Lo ha Lo ha conquistato Praticamente Anche se Probabilmente La fine Della spinta La fine Dell'entusiasmo Dell'Inter È arrivato Dopo l'eliminazione In Champions League Perché se l'Inter Non Non avesse perso Contro L'Atletico Madrid Probabilmente Oggi staremo Parlando di un'altra cosa Cioè staremo Parlando di un Inter Che essendo che è focus In Champions È vero che oggi Avrebbe fatto un corposo Turnover E voi direte Beh ma tu pensi Che l'Inter Avrebbe Fatto una partita Più tranquilla Arrivata ad obiettivo Proprio In modo chill Con le riserve Rispetto a quei titolari Oggi Non proprio Questa è la frase giusta La frase giusta Da dire sarebbe un'altra Cioè sarebbe da dire Se l'Inter Fosse ancora in Champions Oggi Giocherebbero un po' i titolari Un po' le riserve Ma si sentirebbero Spronate a fare meglio Perché l'Inter Sarebbe super focus Perché tra tre giorni Si gioca un quarto di finale Che potrebbe voler dire Vincendo Entrare tra le prime quattro D'Europa Per la seconda volta consecutiva Quindi lì poi Entra in un'altra ottica Quest'ottica L'Inter in questo momento Dal mio punto di vista Non ce l'ha più E quindi è normale Che anche in campionato Vada avanti un po' per inerzia Aspettando Il Il tricolore Con questo Anzi con il gol di Ceranoglu Che tra poco Andiamo a evidenziare L'Inter segna In 31 gare Su 31 partite di campionato Clamoroso Cioè vi rendete conto Che quest'anno L'Inter ha sempre segnato In ogni partita Sempre segnato Cioè manco a di che fa 1-0-0 Perché 0-0 Non vuol dire sconfitta Però ha sempre segnato Cioè questo ti fa capire Anche come l'Inter Abbia dominato In lungo e in largo Questo campionato E io Lo ridico adesso Lo dico adesso Che siamo a fine campionato Lo dicevo A metà campionato Lo dicevo Poco dopo Qualche giornata Dall'inizio del campionato Quest'Inter Non la vedo come il Napoli Dello scorso anno Cioè il Napoli Dello scorso anno Mi è sembrato un po' Un Wonder season Team Cioè Tipo Stagione della Madonna Perché se andiamo a prendere La stagione del Napoli La stagione dell'Inter La stagione del Napoli Cosa illegale L'Inter quest'anno Secondo me E non ne parlo Sotto il punto di vista Dei dettagli Dei gol Delle azioni Delle vittorie Perché non è quello Perché qualcuno Poi verrà di me Adesic Però guarda che pure L'Inter quest'anno Ha fatto tot gol Tot assist Non parlo di quello Cioè parlo proprio del fatto Che l'Inter invece Mi sembra sia un altro tipo Di squadra Cioè l'Inter mi sembra Una squadra Poi solo il tempo L'anno prossimo Ce lo dirà Mi sembra una squadra Che ha regolato Il campionato Delle volte ha fatto Anche quattro gol Tante squadre Ha portato sempre a casa I punti E doveva portare Senza mai dover Strafare esageratamente Però nonostante questo L'Inter è la stessa squadra Che mi dà l'impressione Di essere Non un exploit Ma La squadra più forte Una delle più forti In generale In Europa Poi ci sta che Pare vinci E poi perdi Con l'atletico E vai a giocarti I rigori E perdi Può capitare Ci sta È una cosa che In qualche modo È anche comprensibile Cioè fa parte Di un calcio Fa parte del calcio Fa parte di una stagione Può capitare Affronti un'altra squadra Molto forte E va bene così Però comunque L'Inter per me L'anno prossimo Ad esempio Non farà come il Napoli Di quest'anno Ma nemmeno lontanamente Anzi credo che L'Inter l'anno prossimo Possa Realisticamente Realisticamente Giocarsi di nuovo Lo scudetto da dominatrice Dipenderà poi molto Dalle scelte di mercato Che faranno Inter, Milano E fuori E E possa di nuovo Giocarsi le sue carte In Champions League Cioè l'Inter ha la possibilità Non la certezza Ma la possibilità di aprire Un ciclo stile Juve Il Napoli non mi ha mai dato Quell'impressione lì Cioè l'ho sempre vista Come una grande stagione Ma che Avrebbe dovuto reinventarsi Quello l'ha fatto Cercando di Diciamo Alimentare un ciclo Che De Laurentiis Non è riuscito Non è riuscito ad alimentare Detto questo Detto questo Chiaramente L'Inter Oggi Aveva la voglia Di fare dei punti Perché se il tricolore È ad un passo C'è ancora il derby di mezzo Il Milan vince Non accenna a perdere partite E quindi E quindi insomma Doversi trovare A 4 3 giornate Dalla fine Non avere ancora La matematica in tasca Dopo un campionato Di questo tipo Può dare fastidio Dal mio punto di vista E l'Inter prova a raddrizzarla Già nel primo tempo Gioca meglio dell'Udinese Ma non mi piace Nella precisione E nella testa Nel secondo tempo Vedo l'Inter Grosso modo Non completamente Ma in parte Vedo l'Inter Che ho riconosciuto Per tutto il campionato E porta Al pareggio L'Inter Il gol di Carlos Augusto Fa gol Carlos Augusto Segna ma È in fuorigioco Mi pare nitido Cioè è un fuorigioco Davvero netto Quindi Si fanno delle polemiche Abbastanza inutili Su un fuorigioco Che mi sembra Ripeto Piuttosto Piuttosto chiaro e lampante Però E qua voglio aprire una parentesi Ma magari sbaglio io A me sembrava Impresa diretta Poi magari sbaglio Magari ci saranno delle immagini Magari mi diranno delle altre cose Mi sembra che Biol La prenda di mano Prima del gol Di Carlos Augusto Lì sarebbe Stato da aprire Un filone Sul discorso Carlos Augusto Fuorigioco Poi un filone Su se la prende di mano O meno Poi un filone Su la prende di mano Ma bloccando cosa L'inserimento di Carlos Augusto Che era in fuorigioco Quindi era in fuorigioco attivo Quindi il tocco di mano Diventa nullo Cioè Bisognerebbe aprire dei filoni enormi Che hanno preso Sbaragliato Non abbiamo capito nulla Va bene così Va bene così Fino a un certo punto Penso per l'Inter E per gli interisti Però mi sembrava Proprio alla base Che ci fosse sia il fuorigioco Che il tocco di mano Di Biol Poco dopo comunque Il gol L'Inter lo fa E lo fa sul calcio di rigore Ho letto qualche polemica Ma vi piace fare polemica Okoye esce E prende Turam Prende Turam Non è che dici Prende la palla E Turam Prende Turam Esce a cazzo di cane Dopo una gran partita Una prestazione Che definire enorme Secondo me È essere ingenerosi Nei confronti di Okoye Ha fatto veramente Delle ottime parate Spesso su Akan Cialanoglu Comunque si è fatto sempre Trovare pronto E tutto quanto Lì fa un'uscita fallacea Sbaglia completamente L'uscita Quella è un'uscita Inaccettabile Ad alti livelli Prende Turam È un calcio di rigore Dal dischetto ci va Akan Cialanoglu Che non sbaglia Un rigore dagli anni di Cristo E fa il gol Del pareggio Sul rigore Okoye non mi ha fatto impazzire Ma proprio per l'intelligenza Nel senso che io penso Che tu Avendo di fronte Uno dei Rigoristi Più impeccabili D'Europa Dovresti studiarti Il modo di tirare Di Cialanoglu E poi andare Invece Cioè è sembrato Proprio come se Okoye Avesse voluto aspettare Cialanoglu Tirasse per poi buttarsi Ma uno Non può fare una cosa Di genere contro Un giocatore Che sa calciare Perché la palla Non la prendi mai Due Okoye È alto Due metri E un polifiamo Sulle spalle Quindi Tempo che poi Ha capito Dovesse buttare Perché poi l'ha capito Ci è arrivato Due anni dopo Si è gettato Ma Effettivamente Non Non è valso Il Come posso dire Il Il momento Non Non sono riusciti A farlo E quindi L'Inter La pareggia In quel momento Lì Detto questo Però c'è un finale C'è un finale Ci sono sette minuti Di recupero L'Inter La vuole vincere L'Inter Si getta in avanti E l'Inter È alta E aggressiva Ricordo Andare ad Udine Andare ad Udine Con questa Stagione Fatta Con questa Pressione Con tutte Queste partite E Trovare Al 95 La forza Di gettarsi In avanti Ancora una volta Perché l'Inter Si getta in avanti Ancora una volta E trovare Poi Il gol del 2 a 1 Al 95 Contro L'Udinese A Udine In una partita Che si era messa In quel modo lì In quella situazione lì In quel contesto lì Con l'Inter Che c'entra il palo da fuori E sul ribatto Poi lì Vabbè Okoye Dorme in piedi Ci arriva dopo 2 ore È sfortunato pure Perché l'unico che ci va È Frattesi E Frattesi si infila Calcia E butta la palla Tapin In porta Ci vuole anche Sapete cosa I cojones I cojones Ci vogliono i coglioni Ci vogliono i coglioni Perché tu dimostri In quel frangente lì Di averli Dimostri che a te Non ti interessa Nulla Di quello che Pensi Sia stata la tua partita Del fatto che hai staccato La spina Di tutte le cose Che ho detto Tu la partita La vuoi vincere E quindi E quindi lì E quindi lì Secondo me È anche la dimostrazione Della maturità Accumulata Partita dopo partita Dai giocatori E qua Voglio fare una sottolineatura Grande come una casa Grande come una casa Del lavoro fatto Da Inzaghi Ma ero un attimo Impallato Del lavoro fatto Da Inzaghi Da Simone Inzaghi Che ha preso Una squadra Anni fa Ok qualcuno dirà Sì però sì Che è arrivato anche tardi Simone Inzaghi Nella costruzione Di un ciclo Che doveva vincere Forse l'anno in cui Ha vinto il Napoli Forse l'anno prima In cui ha vinto il Milan Ragazzi ma Vi rendete conto È vero È vero L'Inter non aveva ancora vinto Non l'ho ancora vinto Lo vincerà a breve Un tricolore Fino a questo momento È la verità Ma voi vi rendete conto Il lavorone Che ha fatto Inzaghi Cioè prendete il lavoro Di Frattesi Cioè Frattesi Non è un titolare Frattesi giocherebbe Il titolare In tutte le altre 19 squadre d'Italia Chi dice di no C'ha gli occhi Foderati di pelle Di porco Ok È chiaro che sia così Eppure lì Gioca con il contagocce Lì fa panchina Ma lì Quando serve Vince Segna Fa segnare Decide le partite Ecco questa È la vera forza Dell'Inter Questa è la vera forza Che ha creato Inzaghi Chi gioca Fa bene Gioca Carlos Aguso Da esterno Da braccetto Fa bene Gioca Frattesi Fa bene Quest'anno Tante partite Sono state anche decise Da Sanchez Che è visto come L'ultima ruota del carro Tante altre Sono state decise Da Arnautovic Arnautovic ha fatto il gol Nella gara d'andata Di Champions League Poi l'Inter è uscita Ma ha fatto gol Arnautovic In quel contesto lì Tante altre partite L'Inter Si è appoggiata Sulle spalle di Aslani Alla mancanza Di Cialanoglu E negli altri anni Questa roba qua Non c'era Non c'era Non esisteva Questa roba qua Negli altri anni Non si vedeva Questo Dal mio punto di vista Il mio È il grande merito Il grande merito Di Simone Inzaghi Fatemi sapere la vostra Iscrivetevi al canale Io vi ringrazio Tantissimi mi piace Boccia la dalla E noi come sempre Ci vediamo al prossimo video Tantissimi mi piace